Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long. A voi tutti fratelli e sorelle che siete in ascolto, grazia e pace da Dio nostro Padre che ci ha creati, che ci ha salvati in Gesù Cristo e ci chiama e ci guida per mezzo dello Spirito Santo. A Lui sia la lode in ogni età. Amen. Scrive il salmista, è bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, O Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte sulla lira a dieci corde e sulla cetra con la melodia dell'arpa. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, O Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani, come sono grandi le tue opere, O Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, ti ringraziamo per aver messo nel nostro cuore la fiducia gioiosa in te e nella tua opera. Tu sei sempre più grande delle nostre timide aspettative. Tu compi ogni giorno delle cose nuove, delle cose inimmaginabili. E allora, Signore, donaci anche oggi di sperimentare il tuo sostegno e la tua consolazione. Amen. Signore, donaci anche oggi di sperimentare il nostro cuore la tua bontà e la tua bontà e la tua bontà. Egli è fede e ricordato dell'infinita sua bontà. per il suo popolo di credenti. Egli è l'indio di fedeltà. Oh, giubilate, salmeggiate, con suon di torni e cetredo. Oh, nella terra abitatori, gloria cantata al re Signore. Leggiamo dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 12, i versetti da 1 a 10. Bisogna vantarsi? Non è una cosa buona, tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo, in Cristo, che quattordici anni fa, se fu con il corpo, non so, se fu senza corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo, senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in Paradiso e udì parole ineffabili, che non è lecito all'uomo di pronunziare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire, per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Benedica il Signore la lettura e l'ascolto della Sua parola. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, viviamo in un mondo dove è attraverso la bella presenza, le grandi prestazioni, la comunicazione invasiva, persino violenta, che i messaggi passano e i cambiamenti si impongono. Sempre e ovunque devi essere il più forte, la più brillante, il più furbo e il più subdolo per convincere le persone, per attirare le folle, per fidelizzare i clienti. E se questo non basta, allora si ricorre alle minacce, soprattutto nelle relazioni internazionali e nelle dispute politiche. Ma non è così per quanto concerne la fede cristiana, sempre che ci si riferisca a quello che è stato l'atteggiamento di Gesù Cristo stesso. È vero che la storia del cristianesimo ha vissuto tempi bui con le crociate, l'inquisizione, le guerre di religione, le conquiste coloniali, dove le convinzioni di alcuni hanno portato ad annullare e schiacciare i valori di altri fino ad arrivare allo sterminio. Tuttavia, questa stessa storia cristiana ha conosciuto anche un gran numero di donne e di uomini, voci, pensieri, movimenti, interi popoli che non hanno usato la violenza per testimoniare la loro fede. Questo certo non giustifica gli orrori commessi altrove nel nome dell'Evangelo, ma dimostra che il metodo del rullo compressore non era l'unico ad essere usato. Le istruzioni di Gesù ai discepoli erano chiare, andare nelle città e nei villaggi, presentarsi con un saluto di pace, parlare della misericordia di Dio Padre e, se gli abitanti non vogliono ascoltare, scrollarsi la polvere dai sandali e ripartire. Non ha chiesto di riempire le orecchie della gente con discorsi insistenti, di imporre la fede con dimostrazioni di forza. C'era un solo modo di fare, tendere la mano, osare parole di pace, insegnare ciò che egli stesso aveva insegnato i suoi discepoli e lasciare che lo Spirito agisse. Certo, questo non è un metodo dei potenti o dei conquistatori. Allora è un metodo per deboli? L'Apostolo Paolo era debole? Fisicamente sì. Gli esperti sono d'accordo nel dire che soffrisse di un problema alla schiena, forse alla spina dorsale, qualcosa che a volte gli causava un dolore intenso. Non gli dava fastidio a leggere o scrivere, ma a stare in piedi e parlare davanti alla gente. Per lui era difficile, era doloroso. Non poteva dunque permettersi quei grandi voli con cui gli oratori amavano elettrizzare il loro pubblico. Risultato? I suoi avversari, buoni conoscitori della Torah e di altri libri contenuti in quello che poi sarebbe stato chiamato l'Antico Testamento, lo accusavano di non manifestare alcun segno visibile della sua funzione di portatore della parola divino, divina, mentre il volto di Mosè risplendeva nella gloria divina quando esponeva la legge ricevuta da Dio. Gli oppositori di Paolo a Corinto lo deridevano. Come poteva pretendere di annunciare che Cristo crocifisso era venuto per inaugurare il tempo nuovo e portare a compimento la legge? Lui la cui grandezza non poteva competere con quella dell'antenato Mosè? La comunità di Corinto era divisa di fronte a questa contestazione. I cristiani, rimasti fedeli a Paolo, lo supplicavano di tornare nella loro città e dimostrare agli altri che aveva tutta l'autorità di predicare Cristo e che la morte di Gesù sulla croce segnava chiaramente il tempo nuovo inaugurato dalla grazia di Dio. La risposta dell'Apostolo Paolo stupisce perché non fa il gioco degli avversari. Vorreste da me un atteggiamento fiero, orgoglioso, dice Paolo? Bene, avrei di che vantarmi se volessi, ma non lo farò perché non è della mia gloria che si tratta. Certo, il problema che ho alla schiena è per me motivo di debolezza, lo ammetto, ma ciò non significa che i miei discorsi siano inutili, casomai dimostrano che la forza che opera nelle mie parole non viene da me, ma da Cristo stesso. Paolo, ci dice il testo, aveva pregato Dio affinché lo liberasse da questa scheggia piantata nella sua carne e alla fine aveva dedotto che Dio gli chiedeva di accettare questo limite doloroso. La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. In questo Paolo si collega all'evento della croce. A chi vuole ascoltarlo spiega che la morte di Cristo sulla croce non è un fallimento, è un passo necessario per porre fine al potere della morte, come poi ha dimostrato la resurrezione. E di questo ci sono i testimoni, le donne che si recano al sepolcro, Pietro e Giovanni, i discepoli in cammino verso Emmaus e poi tutte le persone riempite dallo Spirito santo nel giorno della Pentecoste. E alcuni anni dopo, Saulo di Tarso, toccato dalla grazia lungo la strada di Damasco. Lui che era stato uno dei persecutori più feroci della Chiesa nascente, dopo pochi anni, veniva accettato come uno degli Apostoli. E la storia del cristianesimo dei primi tempi lo ha ritenuto uno dei più attivi annunciatori della buona novella di Cristo. Al centro del suo messaggio, detto e ripetuto instancabilmente davanti al suo pubblico e sviluppato in tanti modi nelle sue lettere, c'è questa frase della prima epistola ai Corinzi, che conosciamo tutti molto bene. Ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Questo è il grande comandamento dato da Gesù Cristo, il comandamento dell'amore. Per Paolo questo comandamento, già presente nelle scritture antiche, è il coronamento della legge che Dio ha affidato a Mosè e a tutto il popolo. Amerai il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questo è il primo grande comandamento. Poi viene un secondo altrettanto importante. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Il Dio di Abramo, di Mosè, di Davide e dei profeti ha fatto la scelta di imporsi non con la forza, ma con l'amore. Anzi, non è che un giorno ha scelto perché gli piaceva. E così dall'inizio, dalle origini, egli è la vita che viene nel mondo e che per amore dell'umanità, senza clamore, senza armi e marce trionfali, sconfigge il potere della morte. La vita è debole, fragile e vulnerabile, ma resiste, ritorna, si trasmette, scompare, riemerge, rinasce, cade, si rialza, resuscita. Proprio sotto il naso della morte. Grazie all'amore. Dio non è solo uno dei tanti pretendenti al potere nel mondo. È altro, è diverso, è singolare. Per fare breccia al cuore e alle menti degli esseri umani, mette in gioco la propria esistenza. Lo fa nella debolezza di un bimbo che nasce in una mangiatoia, di un uomo che accetta di morire in croce e che la mattina di Pasqua vince la morte. La debolezza è stata la leva della sua vittoria e la debolezza non è una vergogna, né un disonore, è una risorsa. Perché Gesù ha promesso il regno a quelli che assomigliano ai bambini? Non perché siano gentili, innocenti e senza peccato. Li ha scelti come esempio perché sono più deboli del mondo che li circonda, perché dipendono da chi li protegge e li nutre, perché hanno fiducia in coloro che li rassicurano e consolano, perché obbediscono a chi insegna loro a vivere quotidianamente e li condurrà verso la loro futura esistenza di adulti. Per crescere hanno bisogno della gentilezza e dell'amore di tutti coloro che li circondano. I bambini sono deboli, sì, ma l'amore che richiedono, che suscitano e che diffondono è una forza che muove le montagne. Noi siamo creature deboli e fragili, ma l'amore fraterno che ci unisce è una forza che va oltre le barriere. Ciò che facciamo nel nostro impegno verso Cristo, non siamo noi a farlo. È lo Spirito che opera in noi. Da soli noi non saremmo capaci di amare il prossimo come Cristo ci comanda. È lo Spirito che ci rende fratelli e sorelle, che ci rende capaci di amare e di diffondere l'amore che Dio porta nel mondo. Noi non siamo in grado di parlare al posto di Dio, ma parliamo di ciò che abbiamo letto e compreso nelle scritture, di quanto abbiamo ascoltato nella testimonianza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle nella fede e dello Spirito Santo che può mettere il suo soffio nelle nostre parole. È Lui che permette a chi ascolta di riconoscere, nostro malgrado, la parola vivente di Dio. Noi siamo solo delle corde vocali sulle quali lo Spirito fa risuonare le parole di Dio. Amen. Spirito Santo del Signore Sì 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 Grazie a tutti. 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 Ti preghiamo per coloro che hai chiamato a diffonderla, a seminarla, attraverso le loro parole, i loro gesti, il loro impegno, la loro sofferenza, i loro sorvisi. Ti preghiamo per le società bibliche, per i catechisti, per i predicatori laici, per le monitrici della scuola domenicale, per pastori e diaconi. Donaci di essere attenti al modo con cui ne facciamo spaventare dai terreni aridi o dai cattivi raccolti o dalla chiusura delle porte. rendici attenti alle prospettive che si aprono, alle opportunità che si presentano. Donaci di preghiamo per coloro che hanno fatto della lettura della tua parola il loro pane quotidiano e per chi la incontra lungo il cammino o nei crocevia della propria vita. Ti affidiamo tutte e tutti coloro che confidano nella tua parola. Fai in modo che da essa si lasciano impregnare, toccare e che possano vivere di questo legame che li unisce a te. E poi, Signore, nel silenzio dei nostri cuori, ti portiamo tutte le persone che hanno bisogno di essere incoraggiate, rafforzate, sostenute. Tutte le persone che conosciamo, vicine e lontane, che hanno bisogno della nostra preghiera. La tua grazia, Signore, ci basta. Dacci la forza per esserne testimoni e la fede per accontentarci. Che la tua grazia ci accompagni, come la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato e che ti vogliamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Santo, 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 che piego degli eserci in me, Tutta la terra in me, da la sua gloria. Santo, 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 in me, mi potente, Vogliamo lasciarci con la benedizione del Signore. Il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo dandogli la pace. Andate, e la pace del Signore sia con voi. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long.